In una città come Caltanissetta, è sempre più forte l'interesse da parte di molti cittadini e cittadine ad impegnarsi per il bene comune in prima persona, per cercare di migliorare il contesto nel quale si sono trovati a vivere o hanno deciso di vivere. Per far sì che questo impegno possa essere utile alla comunità, alcuni di loro hanno deciso di costituire e promuovere un'associazione dal nome Futura Costruiamo Insieme la Città. Questo è quanto si legge in un comunicato diffuso da Paola Sanfilippo, presidente e portavoce della nuova associazione. Futura è stata costituita con l'obiettivo di costruire e ricostruire una comunità attiva che progetti dal basso una nuova città, con gli strumenti della partecipazione dei quali ha già la cultura, al centro della quale ci sia la sensibilità alla cura dei beni comuni, materiali e immateriali, e la condivisione di pratiche per l'inclusione sociale di tutte le fasce della popolazione cittadina. Nessun progetto calato dall'alto dunque, nessun individuo da solo e nessun salvatore della città, ma una comunità che insieme discute, progetta e attua una politica con la più maiuscola per il bene comune di tutti. Proprio a tal fine, l'associazione proporrà una serie di incorniti tematici per i quali si chiederà un coinvolgimento dei cittadini, che definiranno anche il programma elettorale. Si tratta quindi di un'associazione aperta al dialogo con tutti, che mira ad essere una testimonianza di cittadini che vogliono stare dentro i processi politici della città. Si propone quindi come luogo di incontro e di confronto per quanti hanno voglia di vivere a Caltanissetta, non da spettatori ma da protagonisti. Il consiglio direttivo della nuova associazione è composto dalla presidente Paola Sanfilippo, dal segretario Cristiano Curatolo e dal tesoriere Filippo Agostara. Inoltre sono consiglieri Giorgia Moscarelli e Armando Torturici. Ad oggi inoltre tra gli altri fanno parte di Futura anche l'ex sindaco Giovanni Ruvolo e diversi ex assessori. Chi vuole maggiori informazioni sull'associazione Futura Costruiamo insieme la città e sui progetti ai quali sta